Sono 9.220 gli atti ispettivi in materia fiscale eseguiti nel 2011 in Sicilia dalla Guardia di Finanza che ha scoperto 1,5 miliardi di euro sottratti a tassazione in materia di imposte dirette attraverso la constatazione di redditi non dichiarati e costi indeducibili. Individuati 815 evasori, di cui 728 totali, cioè completamente sconosciuti al fisco, nei cui confronti è stata recuperata a tassazione una base imponibile pari a circa 769 milioni di euro e violazioni IVA per circa 160 milioni di euro. A carico di 87 evasori paratotali, la base imponibile recuperata ammonta a 115 milioni di euro e le violazioni IVA circa 25 milioni. Il bilancio dell'attività è stato diffuso dal Comando regionale delle Fiamme Gialle. Sono state inoltre accertate, ritenute non operate e non versate per 23 milioni di euro. 290 milioni di euro evasi non versati ai fini dell'IVA con un più 92% rispetto al 2010 dato che per i finanzieri potrebbe indicare una grave crisi di liquidità delle aziende. Sono stati contestati a 808 soggetti 954 reati fiscali. In un caso il contribuente infedele è stato arrestato per reati associativi finalizzati alla frode fiscale tra gli interventi di maggiore rilievo, quelli a carico di una società di agrigento operante nel settore del riciclo di materiale ferroso che nel corso di un triennio ha occultato ricavi imponibili per circa 177 milioni di euro omettendo il versamento di Ires per circa 53 milioni di euro. Nel contrasto al sommerso di lavoro sono stati operati 636 interventi che hanno consentito di individuare 1.606 lavoratori in nero tra cui 5 minorenni. I settori dove il fenomeno incide di più sono ristorazione alberghiero, edilizia, artigianato, alimentare. In tema di ricevute e scontrini fiscali sono stati eseguiti 46.659 controlli che hanno rilevato omissioni e irregolarità nel 31% dei casi. Avanzate 547 proposte di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ed eseguite 553 chiusure di esercizi commerciali in conseguenza di ripetute e mancate emissioni dei documenti fiscali. I trasgressori sono attivi nel campo alimentare, nell'abbigliamento, nella riparazione veicoli, barbieri e parrucchieri. Grazie. Grazie.